Pietro Puzzone, l'ex calciatore del Napoli che ha vissuto da protagonista i fasti dello scudetto vinto con Diego Armando Maradona, con cui si rese protagonista di tante iniziative di beneficenza organizzate per le persone bisognose. Considerato che l'ultimo campionato della sua carriera Pietro Puzzone l'ha giocato in Serie C1 con l'Ischia Calcio, abbiamo intervistato Giuseppe Monti per tutti i billoni e Franco in Pagliazzo, Taratà, Storica e Bandiere Giallo-Blu, i quali, oltre a sottolineare le doti umane di Pietro Puzzone, hanno detto che i suoi ex compagni di squadra sono pronti ad aiutarlo e ad ospitarlo a Ischia, anche per andare a fare un bagno a mare tutti insieme. Ebbene, oggi grazie all'amico Paolo Esposito siamo riusciti a farci giungere il messaggio dei suoi ex compagni di squadra che è stato felicissimo di ricevere. Siamo qui con Pietro Puzzone e stiamo facendo sentire il saluto dei suoi amici della squadra di calcio del Bistia, Billone e Migliaccio. Billone è il contrenome, Antonio Monti. Antonio Monti. Un po' di scioglie ti voglio bene, anche se quando è giocato non mi ti voglio portare solo la palla. Questo è lui. Ha perso tutti i capelli. Sì, sì, un po' di dire, va in giro il pezzo. Comunque Taratà è stata la bandiera di Ischia, un grande uomo, di fatto è oramai abbandonata di Ischia, però questo qua se è uscito fuori dall'isola potevi fare una categoria superiore alla serie C. È vero, è vero. Taratà sei numero uno, un bacione, ti vengo a trovare. Ci saluti anche Giovanni Martuscello? Ah, per quanto riguarda lui adesso a fare una carriera anche di allenatore, Giovanni Martuscello. Ti ricordi, Billone, ti mettevi tu a destra e lui a sinistra, quelle facce di consumare. Giovanni ti mando un bacio e auguri per te, non per la Juve. È solo per lui. Ciao, ciao. Grazie. Grazie a tutti.